Questa è una frase che mi ha prestato Thomas Wisner, quello che vi sto per raccontare a proposito della nuova classificazione scaturisce in realtà per la gran parte da una discussione da bar che ho avuto con Thomas Wisner a Parigi ultimamente, i limiti del mio linguaggio implicano, significano i limiti del mio mondo. Allora perché noi dobbiamo andare a, abbiamo l'esigenza, l'urgenza di classificare, perché senza una classificazione, se ci pensate un attimo, noi non riusciamo nemmeno di fatto ad incasellare i nostri pazienti in una determinata categoria diagnostica e quindi non riusciamo nemmeno a gestirli. Questa classificazione UVHO 2018 tanto attesa aveva l'ambizioso obiettivo di integrare i dati della morfologia convenzionale con quelli della genetica molecolare. Se non che però sconto un peccato originale, il peccato originale sapete non lo abbiamo commesso noi, ce lo ritroviamo addosso per via di Adama e Deva e questo è il peccato originale. Cioè di fatto gli studi sul melanoma, se voi andate a valutare proprio numericamente i papers impattati sulla genetica delle neoplasie maligne del genere umano, vedete che il melanoma, che è questa linea naturalmente nera, come numero di lavori di biologia molecolare impattati, vedete, segue il trend dei lavori pubblicati sulle altre neoplasie ma si colloca al penultimo posto di fatto per tutte le neoplasie umane riguardanti gli studi di genetica molecolare, quindi di fatto c'è questa esiguità, relativa esiguità di dati di genetica molecolare nello studio del melanoma, in cui sicuramente il melanoma è penalizzato rispetto ad altre neoplasie maligne umane. Comunque partiamo con la illustrazione di questa classificazione e partiamo con quello che è più semplice, la classificazione del melanoma, semplice per modo di dire. Questa è la classificazione generale nel capitolo 2 del libro blu della VHO e vi faccio subito notare questo. Questo non è cambiato rispetto alla classificazione precedente, il melanoma nodulare è classificato insieme al melanoma nevoidi e al melanoma metastatico. Mi sapete dire perché? Io non l'ho capito perché il melanoma nodulare, il melanoma nevoidi e il melanoma metastatico sono assiemati in un unico capitolo. L'unica spiegazione che mi so dare è che queste tre entità possono in qualche modo simulare l'una l'altra e per tutte tre queste entità è importante la correlazione clinicopatologica, però se ci pensate un attimo alla correlazione clinicopatologica, come dicevo anche stamattina, non è importante soltanto nel capitolo del melanoma nodulare, del melanoma nevoidi e del melanoma metastatico, è importante un po' in tutti i casi. Vedete questo caso che mi aggiunse in consultazione qualche tempo fa da Trieste in cui il patologo di riferimento su biopsia incisionale del cuore capello aveva rifertato cute normale ed il dermatologo non era contento con questa rifertazione. Questo è il quadro istologico ed in effetti sembra esserci cute normale. Dov'è la clu diagnostica? La clu diagnostica è qui, in questo frammentino staccato, pensate un po' che il patologo aveva inizialmente trascurato. Quando io ho suggerito al collega, al patologo referente di considerare questo frammentino, lui mi ha detto ma questo è un trasporto. Non è un trasporto, è questa più forte ingrandimento, si vedono questi melanociti dendritici, con prolungamenti dendritici assolutamente prominenti, molto atipici. Non è un trasporto, perché questa è la clinica, vedete, è un paziente di una certa età, un paziente anziano, che cos'è che ripigmenta il cuore capelluto nel paziente anziano? Non c'è nient'altro che ringiovanisca il fusto pilifero nell'anziano, può essere soltanto un melanoma annesso troppo che sta ripigmentando il fusto pilifero e questo è il lavoro originale di Rainer Dumer che descrisse questo segno come altamente specifico di melanoma del cuore capelluto. Quindi diciamo l'osservazione preliminare è che di fatto questa classificazione ha un po' questo limite preliminare di assiemare delle entità che di fatto hanno poco a che spartire l'una con l'altra. Poi ci sono i due grossi capitoli, fondamentalmente i melanomi che sono correlati a vario titolo, in vario grado con la fotoesposizione e il gruppo di melanomi che non hanno nulla a che vedere con la fotoesposizione. Poi nell'ambito di questo primo gruppo si discriminano i melanomi succute a fotoesposizione, acute intermittente se volete, cioè succute a basso fotodanneggiamento e i melanomi succute ad elevato fotodanneggiamento, il classico esempio, la lenticoma legna del volto. Poi il melanoma nodulare viene sotto classificato in melanoma nodulare a basso fotodanneggiamento e ad elevato fotodanneggiamento e questa è una stupidata perché in realtà il melanoma nodulare è una silhouette di melanoma e in quanto tale può manifestarsi anche lì dove non batte il sole, cioè a livello genitalio, a livello mucoso, quindi questo è quantomeno incompleto per non dire scorretto. Ma da dove nascono questi termini che correlano gli istotipi di melanomi alla entità del fotodanneggiamento e della fotoesposizione? Nascono da questo lavoro interessantissimo all'epoca, il quale evidenziava come i melanomi succute a fotoesposizione acute intermittente avevano un'elevata incidenza di mutazione di BRAF e Teresa Troiani ci ha dimostrato proprio quanto importante sia questo assetto mutazionale del melanoma, mentre i melanomi succute cronicamente fotodanneggiata o i melanomi succute non fotoesposta avevano frequenti mutazioni di ciclina D1 e di CDK4, quindi profili genetici completamente diversi che segregavano quattro famiglie di melanomi in maniera abbastanza accurata. Questo lavoro è stato pubblicato nel 2005 ed è stato veramente un lavoro innovativo, però nel frattempo dal 2005 ad oggi la scienza è andata avanti. Io da clinico un po' di risulta vorrei dire scusate ma queste sono delle seti da fotoesposizione acute intermittente, però questa è acute severissimamente fotodanneggiata, questo è un paziente con xeroderma pigmentoso che ho preso da internet. Allora come considero un melanoma che insorge su questa acute? Come melanoma succute cronicamente fotodanneggiata o succute a basso fotodanneggiamento? Quindi il dato clinico sarebbe di per sé rilevante per la classificazione del melanoma. Vedo il professore Scalvenzi che già sbadiglia e quindi a questo punto dovrei interrompere la presentazione. Ci sarebbe una possibilità di indagine genetica che ci consente di valutare quanto la fotoesposizione incide nella melanoma genesi e andare a valutare quella che viene definita la UV signature, la firma da ultravioletti che è la formazione di dimeri pirimidimici nel DNA. Però se vedete le varie sottoclassificazioni molecolari del melanoma in realtà la UV signature è presente più o meno in maniera corposa e cospicua in tutte le sottoclassi di melanomi. Soltanto in questa è presente, vedete il triple wild type, è presente in una quota relativamente minoritaria. Quindi la UV signature non segrega differenti categorie di melanomi. E di fatto questo lavoro dice specificamente che mancano caratteristiche genomiche specifiche per specifici sottotipi di melanoma. Cioè il tentativo di associare le caratteristiche genetiche del melanoma alle caratteristiche istologiche è un tentativo che di per sé è da considerare fallimentare in partenza. Ed è questo il motivo per cui io continuo a classificare il melanoma secondo la classificazione di Clark del 1969 che è una pazzia, però non vedo un significativo miglioramento in questo ambito della nuova classificazione. Passiamo poi al problema delle lesioni intermedie che è un problema ancora più scottante a mio avviso. Allora i nostri amici dicono nel capitolo introduttivo che un gruppo ha recentemente associato il concetto di progressione tumorale all'accumulo a sua volta progressivo di mutazioni genetiche. Allora qual è questo lavoro a cui si fa riferimento? Qui è indicato Alistair Robson che è un mio carissimo amico e vedrete dopo anche perché ho sottolineato la sua presenza in questo lavoro. Questo è il lavoro a cui fa riferimento il capitolo della WHO e fondamentalmente questo lavoro cosa dice? Dice che la neoplasia melanocitica con una sola mutazione è benigna, una neoplasia melanocitica con due mutazioni è intermedia, una neoplasia melanocitica con tre mutazioni è un melanoma. Da cosa scaturisce questo dato? Loro hanno fatto degli studi basandoli sulla microdissezione, cioè sezionando dei frammenti tessutali specificamente individuati sulla base della morfologia. Per cui hanno sezionato cute normale, hanno sezionato un nevo e hanno sezionato un melanoma e hanno analizzato differentemente le alterazioni genomiche presenti in queste tre sedi differenti. Se non è che questa non è cute normale ma è cute fotodanneggiata, quindi ha dei danni da UV. Questo è un nevo troppo banale per poter essere considerato il precursore di questo melanoma e questo è un melanoma troppo avanzato per poterci dare delle indicazioni sulla melanomagenesi in fase iniziale. Quindi già questa figura ci fa capire che questo lavoro è molto deficitario. Ma poi questo dei tre passi, tre colpi e sei out, tre colpi e sei fuorigioco è una oversemplificazione del problema della carcinogenesi e della melanomagenesi. Questa è una lesione benigna, nevo di Wissner, questo è un caso di Teresa Corradin e questo nevo che è una lesione completamente benigna, asportata con diagnosi clinici di basalioma e vi faccio vedere dopo perché, questo è un nevo che classicamente nel 75% dei casi ha due mutazioni. Quindi secondo la WHO dovrebbe essere intermedia ma si conosce bene che la biologia di questa lesione, il nevo di Wissner, è una biologia da lesione benigna e questa è la dermoscopia, questo vasone spiega perché la lesione era stata asportata con diagnosi di basalioma. Ma sulla base di questa regola sbagliata a mio parere dell'1, 2, 3 viene partorita questa tabella che io personalmente, che mi considera essere un discreto addetto ai lavori, uno che segue la letteratura delle neoplasie melanocitiche almeno sull'istologia diciamo con una certa assiduità, io personalmente ho gravi difficoltà di comprensione. Comunque qui ci sono 1, 2, 3, queste sono le linee, le righe di questa tabella corrispondono alle mutazioni, quindi 1, 2, 3, scusate, 1, 2, 3, 1, 2, 3, benigno, intermedio, maligno, se non che però come vedete nella categoria intermedia vengono compresi dei melanomi in situ assieme ai meltamp, ai tumori Bappuno inattivati, anche le displasie melanocitiche, cioè il nevodisplastico vengono compresi in questa linea, in questa riga, come il melanoma in situ, il che è semplicemente pazzesco e poi ancora, questa è la seconda parte della tabella, altri melanomi in situ associati a lesioni considerate intermedie ma chiamate ancora nevi, quindi c'è una netta inconsistenza nella terminologia. E poi c'è la novità sul nevodisplastico, questo studio che abbiamo visto, quello in cui era coautore il mio amico Alistair Robson, ha dato anche una definizione genomica delle lesioni intermedie tipo nevodisplastico. Qui c'è una grossa novità, il nevodisplastico viene ridefinito sulla base di nuovi criteri istologici che sono in questa colonna, nell'ultima colonna di questa tabella, ma mentre in passato i displasticisti classificavano il nevodisplastico e il nevodisplasia lieve, moderata e severa, adesso si dice il nevodisplastico può avere una displasia di basso o di alto grado. Quello che in passato era il nevodisplastico con displasia lieve è stato estromesso dalla categoria del nevodisplastico e viene chiamato nevo lentiginoso. Il nevodisplastico quindi è soltanto il nevodisplastico con displasia ex moderata e severa. Perché questo? Perché secondo il panel il nevodisplastico con displasia lieve non è associato a significativo rischio di sviluppare melanoma. Allora di fronte a questa cosa molto incongrua, a mio modesto avviso, ho un po' seguito le orme di questi due padri della dermatopatologia contemporanea, Clark e Ackerman, i quali ingaggiavano spesso dei duelli tra di loro e questi sono i nuovi duellanti e questo è il mio amico Alistair Robson e ho posto ad Alistair e a me stesso tutta una serie di quesiti concernenti il nevodisplastico. Il numero dei quesiti è lungo e non è il caso di dilungarsi quesito per quesito, magari lo faremo un'altra volta, però parliamo delle cose che ci interessano in questo ambito. Domanda numero 5, tu consideri il nevodisplastico un fattore di rischio o un marcatore di rischio melanoma? Domanda fatta ad Alistair e a me stesso. Il fattore di rischio è una variabile, sì o no, o c'è o non c'è. Il marcatore di rischio invece è una variabile quantitativa continua, non solo c'è sì o no, ma quanto ce n'è. Allora il nevodisplastico secondo voi è un fattore di rischio? No, non può essere una categoria sì o no, perché? Perché se io faccio diagnosi di nevodisplastico in un paziente del genere la diagnosi muore lì, non ha nessuna rilevanza clinica. Diverso è il caso se io faccio diagnosi istologica di nevodisplastico in questo paziente con nevi atipici multipli, allora questo paziente ha la sindrome del nevodisplastico, questo paziente ha sicuramente elevato rischio di sviluppare melanoma. Quindi il rischio melanoma non è determinato dalle caratteristiche istologiche della singola lesione. Il rischio melanoma è determinato dal quadro clinico e dall'anamnesi familiare positiva e dalla genetica in alcuni casi molto limitati. Per cui il nevodisplastico non è un fattore di rischio, può essere un marcatore di rischio melanoma nel contesto clinico di nevi atipici multipli come voi ben sapete. Tu consideri il nevodisplastico un precursore del melanoma? Allora qui Alistair naturalmente si è attenuto a quello che è il suo lavoro che vi ho fatto vedere prima sul New England, cioè continua a sostenere che l'accumulo progressivo di mutazioni porta alla transizione dal nevo al melanoma. Allora tanto per cominciare, questo lo diceva già Geppi, questo lavoro dice che il rischio che un nevo diventi melanoma è 1 a 33 mila, ma d'altra parte è intuitivo perché in questa sala ci sono centinaia di nevi e spero nessun melanoma, quindi il nevo è frequentissimo, il melanoma è una patologia relativamente rara. Poi sempre come diceva Geppi, in realtà nelle casistiche più corpose, non soltanto nella impressione della routine clinica estologica quotidiana, ma anche nelle casistiche più corpose, il nevo più frequentemente associato al melanoma non è il nevo displastico, è il nevo comune, il nevo termico comune. E c'è un altro punto, il concetto della progressione che viene tanto sostenuto dai displasticisti che si è sposato in pieno nella nuova classificazione UVHO, da cosa nasce? Nasce da questo concetto qua, come accennava anche Geppi stamattina. Cioè il concetto di progressione di displasia è stato elaborato sulla base del modello derivato dal cancro della cervice uterina, ma questo modello è stato elaborato sulla base del follow up di pazienti che venivano sottoposte a biopsie periodiche ripetute nel tempo, per cui in quelle pazienti si è potuto effettivamente documentare un progredire della displasia perché le pazienti al tempo zero non venivano trattate e venivano seguite. Ma nel momento in cui voi asportate un nevo, voi interrompete la storia biologica di quella lesione, per cui non sapete e non lo saprete mai cosa ne sarebbe stato di quel nevo. L'unico dato su cui ci possiamo basare è quello epidemiologico, cioè che un nevo ha 1 a 33.000 possibilità di diventare melanoma, cioè rischio praticamente quasi zero. Ci sono poi dei lavori che correlano il grado di displasia nei nevi displasici con il rischio di sviluppare melanoma. Questo è un lavoro molto citato in letteratura, in cui c'è in particolare Scott McNutt che era un grande dermatopatologo. Ma questo lavoro ha un bias incredibile, che è quello di avere raccolto dei casi di nevi displastici senza dare alla minima indicazione clinica, cioè noi non sapevamo quanti nevi avessero questi pazienti che sono entrati nello studio, che è un bias mortale, quindi questo lavoro è da gestinare completamente. Sorvolo su questo perché credo non abbiamo tempo a sufficienza. E arrivo alla classificazione delle neoplasie spizzoidi. Altro punto cruciale. Allora noi eravamo tra virgolette rimasti a questo. Le neoplasie spizzoidi possono ragionevolmente classificarsi in nevo di spiz, tumore di spiz atipico, quella zona grigia di cui Geppi parlava stamattina, che a mio avviso sono dei melanomi di basso grado, come Geppi accennava, e infine il melanoma spizzoido, un melanoma convenzionale con caratteristiche citologiche, istologiche e architetturali simile al nevo di spiz. Questa invece è la nuova situazione. Il nevo di spiz viene assimilato al tumore di spiz atipico e a parti venne settato, poi ne parleremo, questo melanoma di spiz, ex melanoma spizzoide. Io mi sono entrato in possesso di un draft preliminare della classificazione della WHO in cui il capitolo del nevo di spiz veniva chiamato nevo di spiz slash tumore di spiz. Nella stesura definitiva il capitolo è quello del nevo di spiz, ma nel contesto del capitolo del nevo di spiz viene compreso anche il tumore di spiz atipico. Quindi vengono assiemati nevo di spiz e tumore di spiz atipico. Perché? Perché si dice questo del nevo di spiz. Il termine nevo di spiz è riservato per lesioni che mancano di caratteristiche atipiche e che hanno un rischio estremamente basso di progressione neoplastica. Cioè di fatto, vi traduco il politichese anatomo patologico in termini pratici, quello che si vuole dire è che il rischio che un nevo di spiz abbia un comportamento biologico aggressivo è un rischio che viene riconosciuto estremamente basso, ma non è zero. Questo statement deriva da una serie di lavori della letteratura, tra cui questo per esempio, in cui c'era il famoso caso numero 12 che venne considerato benigno da tutti gli osservatori e si tratta di dermatopatologi di grandissima fama e di grandissima esperienza e che aveva avuto un comportamento biologico aggressivo. Queste sono le foto istologiche di questo paper del 99. Non sono foto bellissime, però devo dire che in effetti questa che è la lesione primaria difficilmente potrebbe essere chiamata melanoma eppure alla fine metastatizzò e uccise questa paziente. Allora quale messaggio dobbiamo da clinici, quale in maniera un po' di risulta, mi ritengo anche io, quale messaggio dobbiamo ricavare da questo? Che dobbiamo stare in guardia anche di fronte ad una diagnosi istologica del nevo di spiz? A mio avviso no. Il messaggio che si vuole passare è un messaggio sostanzialmente di salvaguardia medico-legale dell'anatomo patologo. Cioè di fatto nel momento in cui si dice che il nevo di spiz ha un rischio estremamente basso, ma non zero, di progressione neoplastica, implicitamente si ammette che una diagnosi istologica di nevo di spiz, seguita da un comportamento biologico aggressivo, può non essere considerato un errore diagnostico. Quindi io vi suggerisco di non curarvi esageratamente di questo aspetto, perché questo è un aspetto esclusivamente istologico. Voi dobbiamo piuttosto ingranarci e integrarci sempre più strettamente nella diagnosi delle neopasie spizzoide. Cioè io sono fondamentalmente convinto che il quadro clinico di una neopasia spizzoide debba entrare in un sistema organizzato di risk assessment delle neopasie spizzoide medesime. Non possiamo ignorare il quadro clinico nel determinare il rischio biologico che una neopasia spizzoide ha. Vi faccio un esempio, questo è un caso di Bruno Brunetti, se avete una diagnosi come lui ha ricevuto in questo caso di nevo di spiz con un quadro di questo genere potete anche essere contenti. Ma di fronte ad un quadro di questo genere con parte nevascolare chiaramente polimorfo, prima di accettare una diagnosi istologica di nevo di spizzo bisogna che il clinico e l'istorico buttino letteralmente il sangue lavorando assieme cercando di capire se questo non è una lesione che più probabilmente maligna. Quindi il quadro clinico è a mio avviso fondamentale nell'inquadramento biologico di queste lesioni. Perché come sempre quanto più, come dicevo stamattina, quanto più deboli sono i nostri criteri istologici, tanto più forti sono i criteri clinici in termini relativi. E passiamo alla categoria invece chiaramente maligna o considerata tale dello spettro delle neopasie spizzoide, qui c'è una differenza essenzialmente terminologica. Cioè la neopasia maligna non si chiama più melanoma spizzoide, si chiama melanoma di spiz, quindi nevo di spiz, tumori di spiz, melanoma di spiz. Ma direi che un po' più interessante forse, più che questo arzigogolo dialettico, è questa definizione di tumore di spiz maligno. A me personalmente questa addizione piace molto, vi devo dire, perché per carità è ben lungi dall'essere bene inquadrata da un punto di vista istologico. Però il messaggio che può passare e che a mio avviso può rappresentare una buona base di lavoro su cui cooperare per la gestione di questi pazienti è che queste neoplasie, anche quando istologicamente maligne, hanno in realtà una prognosi che è probabilmente migliore se comparata a quella di melanomi, tra virgolette, convenzionali di pari spessore. Per cui questa definizione di tumore di spiz maligno potrebbe in qualche modo aprire la strada a protocolli di gestione clinica di questi pazienti differenti rispetto alla gestione del melanoma convenzionale. Quindi questo credo che forse questa, a mio modesto avviso, questa è davvero la buona notizia di questa classificazione. E poi, visto che abbiamo ancora un po' di tempo, un'ultimissima cosa. Il melanoma acrale lentigginoso nella nuova classificazione viene chiamato soltanto melanoma acrale. Allora, perché? Questo è il pattern del melanoma acrale lentigginoso classico. Il pattern classico è caratterizzato da questo allungamento quasi caricaturale delle creste epidermiche e da una proliferazione di singoli melanociti all'aggiunzione. Per inciso, questi melanociti sono melanociti caratterizzati da grandi capacità di, tra virgolette, movimento. Li trovate anche a 4-5 cm dalla lesione primaria. Fare una rescissione chirurgica di un melanoma acrale non protegge dalle recitive locali e istologicamente vi dà sempre evidenza di iperplasia melanocitica lentigginosa tipica all'aggiunzione. Quindi anche i protocolli di gestione del paziente con melanoma che prevedono la riescissione chirurgica andrebbero modulati davvero caso per caso. Detto questo, vi faccio vedere questo caso che si riferisce ad una donna di 85 anni, lesioni chiaramente acrale come si vede. È una lesione di medie dimensioni, è atipica ma non ha il pattern del melanoma acrale lentigginoso. In più ha questo CHI67 che è una proteina che marca i melanociti che sono in ciclo cellulare. Questo CHI67 è molto basso, la possibilità è nei nuclei, quindi si vedono pochissimi nuclei che proliferano nel derma. Ma soprattutto la lesione non ha il pattern del melanoma acrale lentigginoso, poiché la lesione è acrale, allora puoi implementare questo strano sillogismo. La lesione è acrale, la lesione non è lentigginosa, la lesione non è un melanoma. Sillogismo acrale sono in buona parte acrale lentigginoso, ma un qualsiasi tipo di melanoma può insorgere a livello dell'acute acrale, un qualsiasi tipo. E questa è la termoscopia di questo caso, che cos'è? Questa pigmentazione sulle creste qui e pattern vascolare polimorfo al centro. 85 anni non può essere un nevo di nessuna maniera. E quindi io direi che questa nuova terminologia dei melanomi acrali lentigginosi come i melanomi acrali forse protegge da questo bias mentale, da questo sillogismo aristotelico sbagliato che vi ho fatto vedere. Però è anche vero che i melanomi acrali lentigginosi sono quelli più frequentemente mutati per Sikit, che può essere anche oggetto di terapia targeted colimatinib. E quindi se tu togli l'aggettivo lentigginoso al melanoma acrale, sottrai al melanoma acrale lentigginoso quella connotazione morfologica che correla bene con la biologia. Per cui viene meno alla mission iniziale, che era quella di correlare la istologia con la biologia molecolare. Quindi anche lì dove l'innovazione può essere un'innovazione da vedere favorevolmente, anche lì l'innovazione ha qualche inceppo da un punto di vista concettuale e pratico. Secondo me i tempi non sono maturi per integrare la morfologia con la diagnostica molecolare del melanoma. Quindi questi sono a mio avviso i limiti di questa classificazione. La terminologia è inconsistente, non riesce a riprodurre in termini adeguati una correlazione morfo-molecolare, una correlazione tra l'istologia e la biologia molecolare delle neoplasie melanocitiche. E soprattutto mi permetto di dire, e ho preparato questa slide prima di sentire quella splendida presentazione che ci ha fatto Teresa Troiani nella tarda mattinata, non sono stati coinvolti gli oncologi in questa classificazione. Per cui non si tiene minimamente conto di un inquadramento del melanoma che possa anche tener conto delle implicazioni terapeutiche correlate con le mutazioni genetiche che si ritrovano nel melanoma. Per cui non si considerano le mutazioni di BRAF, non si considerano le mutazioni di KIT, come vi ho fatto vedere, e non si considerano il tumor mutation burden del melanoma. Non ve ne ha parlato Teresa Troiani oggi. Il tumor mutation burden significa carico mutazionale del melanoma. Più il melanoma esibisce mutazioni in termini numerici, quantitativi, e più esso sarà suscettibile alle terapie con i checkpoint inhibitors che vi ha fatto vedere Teresa Troiani stamattina. Quindi una valutazione molecolare moderna del melanoma non può non tener conto del tumor mutation burden del melanoma medesimo. Perché questo è un parametro predittivo fondamentale, cioè un parametro che predice se e quanto il melanoma sarà responsivo alla terapia. E con questo, avendo salvato un minuto e mezzo, vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, grazie mille Jerry perché è stata una lettura magistrale come sempre, perfetta anche come tempi e come concetti. C'è tempo per un paio di domande, ne faccio una di Whatsapp che chiedono a più persone differenti, chiedono se adesso il comportamento nei confronti del tumore di spizza tipico è assimilabile a quello del nevo di spizza e quindi non si fa nessuna radicalizzazione. La classificazione WHO esplicitamente non prende in carico temi concernenti la gestione clinica dei casi. Cioè un conto è tener conto delle problematiche cliniche. Io non posso fare una classificazione che non tenga conto delle problematiche cliniche altrimenti la mia classificazione istologica sarà sterile. È un esercizio mentale fine a se stesso se non ci sono implicazioni cliniche. Un conto è quindi tener conto della clinica, delle implicazioni cliniche e della classificazione. Altro conto è dare delle indicazioni sulla gestione clinica. In questo ambito, cioè nell'ambito della gestione clinica delle neoplasie melanocitiche, la classificazione WHO non entra e non ci entra volutamente. Per cui lo stato dell'arte resta quella di una recessione chirurgica da attuare in via prudenziale, una recessione chirurgica stretta, come io scrivo nei miei referti convenzionalmente, seguita da monitoraggio ecografico dei linfonodi regionali. Al momento, a mio avviso, questo resta il gold standard per la gestione dei pazienti con neoplasie spizzoide atipiche. Grazie. Una domanda dal pubblico se c'è e poi procediamo. Scusami, il neoplasie spizzo è naturalmente gestito clinicamente come una razione perfettamente benigna. Vi ripeto, quel trafiletto che vi ho evidenziato nel capitolo del neoplasie spizzo è un trafiletto che dovete considerare come rivolto ai patologi, in termini protettivi nei confronti dei patologi, ma per voi non deve avere alcuna rilevanza.